La parte più dura è il momento in cui uscirai fuori dall'utero, come ci hanno detto più volte al corso di bioincarnazione. Sarà uno strappo violento, ma i test che hai fatto sulla presenza sono stati tutti positivi. Non dovresti avere problemi nel ricordarti di te per tutto il transito. Essere incarnata per me significa essere consapevole che ho scelto di venire qui sulla terra come essere spirituale in un corpo, quindi ho scelto consapevolmente il mio abito da indossare e in questo abito posso fare quello che desidero, posso divertirmi, posso essere felice, posso essere felice, posso essere una donna che si ama, posso amare ogni sfaccettatura della natura e di questo pianeta. Per me è incarnazione essere consapevole che sto vivendo. Sono riuscita a lasciare andare la paura della morte perché mi sono formata, cioè ho fatto talmente tante esperienze di meditazione, di aiuto agli altri nel quale sono emerse anche delle esperienze di loro vite passate o esperienze anche di persone che hanno lasciato il corpo, quindi persone che io ho aiutato e che poi sono andate nella luce, nell'altra dimensione e che comunque riesco a percepire, così come mio padre che da quando è andato nella luce riesco a percepire che per me non esiste la morte. Io sento che è solamente un cambio di vibrazione, un cambio di... come se passassimo da una porta all'altra, cioè io sento che la morte è un attimo in cui tu chiudi questo... spegni questo computer, questo biocomputer chiamato corpo fisico, esci e ne prendi un altro. È cambiato molto il mio corpo, è cambiato molto il sentire il corpo perché fino a pochi anni fa io non lo sentivo, mi ammalavo spesso, avevo disagi di tanti tipi perché non l'ascoltavo il mio corpo, cioè io ringrazio tutte le mattine il mio corpo. Sono felice. Scegliere il cibo giusto, giusto per noi perché non credo che ci siano regole. Io con le mie figlie sto imparando ad essere mamma, mi sono diciamo accorta di essere madre da poco tempo, nel senso che le ho avute molto presto, a 24 25 anni, l'ultima 35. Mi sono resa conto che non ero pronta a diventare madre, ero ancora una bambina io e quindi in questo momento sto iniziando ad essere realmente madre con lo spirito materno, quindi quello di volermi coccolare le mie figlie, volerle conoscere, volerle ascoltare, accogliere, cosa che prima non sono mai riuscita a fare perché non avevo gli strumenti, non ero ancora io capace di amare me stessa e quindi adesso mi comporto come una madre consapevole di avere tre meravigliose ragazze che hanno scelto di vivere qui su questo pianeta e di portare la loro particolarità perché ognuna di loro è speciale e io le lascio libere di crescere come sono.